Mr. Beretti ha il termine di una vittoria in cui la sua squadra oltre ad aver vinto ha anche convinto in pieno? Ni, sempre ni. Nel primo tempo ho visto una squadra che è stata molto equilibrata nella fase difensiva però ha sprecato tecnicamente un po' di cose. Era una squadra secondo me nel primo tempo molto poco serena perché possiamo fare meglio tecnicamente. Però la cosa importante era quella di trovare una quadratura nonostante le esenze che abbiamo che sapete. Era quella di rischiare poco. Nel secondo tempo invece ho visto un bel lentigione che poteva vincere anche in maniera più robusta la partita. Soprattutto dopo il 2-0 quando si pensava adesso la Samorese ha la reazione l'entigione si difende, l'entigione si è disteso in avanti e come l'ha detto giustamente lei meritava anche qualcosa di più. Sì ma va bene così. L'unica cosa che mi dispiace è che abbiamo preso gol al 93-esimo probabilmente il rigore è dubbio però una squadra con un po' meno problemi di noi adesso non fa neanche entrare il giocatore avversario in area di rigore. Sono un po' dispiaciuto per quello però ho visto un bel lentigione equilibrato, coeso con le idee abbastanza chiare. Aveva moltissimi giovani soprattutto in difesa, hanno tutti risposto nel migliore dei modi e anche qui chi è entrato ha dato un impatto e un contributo molto positivo. Sì, oltretutto ho chiesto anche dei sacrifici ai giocatori come avete visto fuori dalle loro zone di comfort, si dice così, ma proprio perché abbiamo delle difficoltà e quindi questi ragazzi, quelli che in questa settimana si stanno allenando, sono provati in posizioni anche diverse, sono stati tutti veramente molto bravi ma d'altronde se vinci e cerchi di venire fuori da una situazione del genere bisogna dare tutti qualcosa di più. Sono molti giornate come queste in cui mancano gli attaccanti, segnano i centrocampisti, tre gol dei centrocampisti sono oro colato per un allenatore, per una squadra come lentigione. Sì, effettivamente davanti siamo un po' contati dal punto di vista proprio anche numerico, formato però sta facendo un lavoro incredibile secondo me nel mettere dentro e creare spazio agli inserimenti dei giocatori che gli giocano dietro, ma va bene così, noi dobbiamo saltarsi fuori a prescindere da chi faccia gol. Finalmente lentigione, la sua vera faccia, la sta cominciando a rivelare. Ma un indizio non fa una prova, cioè nel senso che anche domenica, secondo me lentigione ha fatto una partita ancora più solida di quella di oggi, poi purtroppo un errore all'ottantottesimo non ci ha fatto esultare anche domenica, su un campo molto difficile come quello di Forte dei Marmi, però dobbiamo dare continuità, dobbiamo dare continuità, adesso vediamo anche con le sanzioni che abbiamo, forse perderemo anche qualche altro giocatore, ma ci salteremo fuori lo stesso. Una cosa incredibile, 15 punti di differenza fra due squadre, credo che in campo non si sono visti assolutamente. Questo è un campionato difficilissimo, io l'ho fatto tre mesi l'anno scorso, questo è un campionato difficilissimo, più difficile dell'anno scorso, cioè qui le grandi differenze di punti stanno in piccole differenze nelle squadre, negli atteggiamenti e nella coesione, è davvero un campionato incredibile e ne succederanno delle belle andare in fondo secondo me. Però alla fine è grande soddisfazione perché le mosse le azzecate tutte. Boh, non lo so, ci si prova. L'importante era fare tre punti, essere una squadra coesa che concedesse poco, abbiamo concesso veramente molto poco, ripeto sono arrabbiato per il rigore preso che secondo me potevamo fare meglio, cioè non concedere all'arbitro l'opportunità di fischiarlo, innanzitutto, però per il resto non mi ricordo soltanto un colpo di testa di maltoni nel secondo tempo e noi invece tante situazioni pericolose, quindi va bene così.